oh ragazzi buongiorno a me la torta mi piace tanto 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 la mangiamo un po fredda per i miei denti comunque non c'è gelato che a me congelato torta congelata a me non mi piace questa è proprio fatta fresca 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 con pan de span crema chantilly la panna è la frutta solo che io ho i denti molto molto sensibili specialmente questo davanti che sta che al fresco a caldo troppo caldo mi fa male se non mi dava fastidio i denti in un minuto lo filmino subito faccio anche di meno in un minuto lo filmino subito in un minuto lo filmino subito in un minuto lo filmino subito guarda la fetà sembrava piccola ma era grande così quindi quindi l'ho mangiata tutta questa torta l'ho ordinata io da una pasticceria molto buona non vuole fare la pubblicità però non dico il nome comunque l'ho ordinata come ho voluto io come mi piace a me pan de span la crema non con cioccolata la torta con cioccolata difficile che la mangio crema chantilly panna che sia un po insiropata capito e grazie alla pasticcera che mi ha fatto questo buonissima torta e niente comunque a me con i dolci non è che sono 80 però ogni tanto mi piace mangiare però troppo dolce dolce perché mi dà fastidio troppo dolce quindi questa torta non era dolce dolce adesso mi fumo una bella sigaretà nel frattempo ciò qui computer davanti che sto caricando un video su youtube fuori non è tanto freddo forse viene a questi video ma a me mi piace anche perché io non c'ho opportunità di andare a fare blog da andare a fare i viaggi di farvi vedere quello 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 la verità non c'è opportunità opportunità potrei ma servono i soldi quindi i soldi non ce l'ho sapete anche voi potete forse avete capito che qui stiamo tre ragazzi in affitto paghiamo l'affitto e cosa prima stavamo un quadro ma una è andata via un amore con i capelli lunghi forse l'avete visto il video a lei non gli piaceva apparire dei video però qualche volta purtroppo sei fidanzata è andata a vivere con fidanzata e giustamente quello che mi piace tanto 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 che c'ho qui la compagnia bella saluta amici saluta bravo bravo che voi può darsi che non sapete ma io con la gazzina mia parlo parlo tanto è vero amici eh è vero vuole da mangiare gli ho dato patè e cosa e che vi posso dire ragazzi vi ringrazio a tutti 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 voi a tutti quelli che mi guarda i miei video che mi schiaccia il buttone like vi ringrazio tanto che vi posso dire sì per fortuna con voi che mi guardate i video io faccio i video vi dico la verità una perché mi piace è la seconda che mi annoio la verità che mi annoio specialmente dell'inverno perché di estate non posso di estate è diverso posso andare al mare a divertirci con le amiche le discoteche vabbè e mi piace essere non centro attenzione perché non sono una che però mi piacerebbe se come da piccola non sono stata apprezzata diciamo così perché ho una storia vecchia ma questa è un po' anche brutta ma questa ve lo racconterò quando ci avrò 5 mila abbonati e quindi mi piace così per vedere se il pubblico veramente piace a me non mi interessa se qualcuno mi commenta brutto e cosa che ben venga che commenta giustamente i commenti quelli brutti brutti sulla persona mia si cancellano purtroppo perché così comunque volevo ringraziarvi di nuovo e metti il buttone mi piace mi piace mi piace mi piace vi mando un bacio e alla prossima bai 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 bai